Musica Riprendiamo ragazzi da dove c'eravamo lasciati nella scorsa parte Sì, continua pure a indicare a vuoto Comunque Abbiamo già capito che dentro queste due prigioni, queste due gabbie Ci sono due ingegneri E non vi so dire per quale motivo preciso siano stati messi lì Ad ogni modo dobbiamo riuscire a ripulire quest'area Perché dobbiamo fare ancora qualcosa in modo tale da lasciarla stare E chiaramente lasciarcelà alle spalle E' ovvio che per andare avanti e fare anche queste piccole cose E' necessario comunque far fuori tutti i nemici In modo tale anche ad avere la strada libera Perfetto, ci siamo potenziati ed è solo che è un buon segno Qui abbiamo visto che è caduta una cassa E dobbiamo fare anche noi praticamente la stessa cosa Solo che dovremmo far cadere una cassa che è vicino a un macchinario Il macchinario è questo E la cassa è proprio questa che sta sulla destra Per riuscire a far cadere e distruggere la cassa che attualmente stiamo muovendo Bisogna portarla verso lo standardo dei Sarafan Che chiaramente è fuori dal capannone Ma comunque è il punto dove noi dovremmo condurre questa cassa Il macchinario ha tre leve Quella di sinistra che conduce chiaramente la cassa verso sinistra Quella al centro che va dritto E la leva di destra che porta la cassa verso sinistra Il percorso è disegnato diciamo così da delle travi di ferro Fatto questo praticamente la cassa cade Si distrugge e all'interno c'era quel demone minore che abbiamo visto Lui praticamente prenderà una rincorsa diciamo così Bello questo cielo color pesto Dicevo prende la rincorsa Si schianta contro quel cancello Lo distrugge e quindi noi possiamo andare Perché altrimenti non c'è un modo per andare avanti Se non fare come abbiamo appena visto Ripuliamo i due cadaveri di questi due bravuri E una volta fatto tutto questo il nostro obiettivo vi ricordo era quello di trovare Uma E adesso vedremo anche che cosa sta succedendo Poiché la incontreremo una volta sorpassata la suglia di questo cancello Rieccomi qua Uma Cain Sì, Cain Non eri tu che volevi mettere in ginocchio il signore dei Seraphim? Credevo Lo so Pare Che avessi torto Non posso lottare da sola? Sei stata coraggiosa a provare Cain Sto morendo Sì È vero? Mi serve il tuo sangue Ti prego Puoi salvarmi Lo so Dimmi ragazza Mi vedi come signore di Nosgoth? Sì, sì Ora ti vedo E credi che Nosgoth sia legittimamente mia? Sì, ci credo Cain Ti prego Allora puoi morire con la verità negli occhi No Non avresti mai dovuto tradirmi Avresti potuto essere la mia regina Cain Ora Mi hai lasciato solo Eh sì Triste momento Mentre che io vi faccio vedere Come è stato posto il suo corpo L'ho fatto utilizzando Malia Perché fa una sorta di zoom Come potete notare Chiaramente Uma Muore così nel gioco E Abbiamo visto all'inizio del capitolo del porto Capitolo che Tra parentesi Concluderemo con quest'ultima parte Dicevo praticamente Abbiamo visto all'inizio del capitolo che Ci aveva rubato la pietra d'unione E la cara Uma E ci aveva rubato dicendo che Se un giorno Nosgoth Fosse stato nuovamente L'impero di Cain Quindi tutta Nosgoth Probabilmente magari Cain si sarebbe potuto mettere anche contro i Cabal E quindi Li dice in sostanza Sì, ti rubo la pietra d'unione Mi metto contro di te Perché non sei fin troppo affidabile E quindi Dobbiamo riuscire a trovarla L'abbiamo fatto In questo capitolo del porto Per riprenderci La pietra d'unione Oggetto O se vogliamo anche Reliquia Necessaria Per sconfiggere Il Signore dei Sarafan Uma muore così Perché In sostanza Le ferite che ha accumulato Durante il combattimento Sono troppe Quindi perde le forze E poteva Riprendersi facilmente Se Cain gli avesse Donato un po' del suo sangue Ma così non è stato E quindi Abbiamo visto come muore Devo dire però che Uma ha venduto cara la pelle Perché Per quanto riguarda proprio il gameplay Notiamo che ci sono 5 guardie Sarafan Tutti e 5 di alto rango E addirittura 2 sono quelle con Le luci di Las Vegas Quindi Grado ancora superiore Queste ultime due Quelle Con le luci appunto Sono Diciamo Le uniche guardie che non sono state Ripulite da Uma stessa E quindi noi possiamo Recuperare il sangue Dei loro corpi Mentre invece Se ci avviciniamo a quelle 3 guardie Di rango inferiore Quelle vestite di blu Ecco Quelle lì sono 2 o 3 state Ripulite da Uma stessa Quindi Una piccolezza a livello di gameplay Che comunque fa Per supporre che ci sia stato Un combattimento abbastanza feroce Fra le guardie Sarafan E E il vampiro Ecco è Uma Comunque Muore così Poi più avanti vedremo un po' Che cosa succederà Sia nel capitolo del porto E Dopo questa parte Inizieremo Un altro capitolo Che sarà un capitolo decisivo In tutti i sensi Ma comunque credo che l'analisi sia Necessaria Quando tratteremo il capitolo stesso Per ora Concentriamoci sul porto Dobbiamo Trovare un modo Per raggiungere La città degli Hilden Che è appunto Il prossimo capitolo E L'unico modo che Conosciamo È quello appunto Di trovare una nave Qui al porto E partire Verso la La nostra meta Mentre qui che Tento di alzare La La gratta Abbiamo visto che La guardia Sarafana È molto dispettosa Infatti Non ci lascia Alzare la gratta Che faccia Oddio Il modo più semplice Per Anzi Non dico il modo più semplice È l'unico modo Per andare avanti E dobbiamo Innanzitutto Prendere il controllo Di questo tizio Dopodiché Dobbiamo salire Qui In questo Marchingegno E azionare Le varie leve Quella di destra Abbiamo appena visto Che gira La cassa E quella di sinistra La fa cadere E uccide Anche La guardia Sarafana Che tra l'altro Non si trova Proprio sotto la cassa Ma va bene uguale Sì Ok Giriamo la manopola E andiamo avanti Ah ecco qui Mi prendo Quest'arma Anche perché È sempre meglio Rimanere Se vogliamo Con un'arma Anche se Può essere Scarsa Diciamo così Piuttosto che Rimanere con gli artigli Anche se Comunque Come ho già detto Miele volte Gli artigli Anche se fanno Meno danno Sono molto più rapidi Quindi Ripulisco a te Facciamo merenda Ecco qua E adesso Abbondiamo Anche con questo Ingegnere Ok Checkpoint Sì Muori vai Tanto Volevo testare Vediamo adesso Se è morto No Ha una grande resistenza Non muore con Ferocità E si è anche Vendicato Ciao Quindi Per morire Bisogna utilizzare Ferocità E un combo Da tre Con la spada Non so se Convenga di più Utilizzare Immolazione O ferocità Adesso Accumuliamo Un po' di energia Vediamo se Riusciamo a fare Il perfect A questo tipo Dai ci sei quasi Bravissimo Dai che Su mori Dai Ti metto A bagnomaria Ti surriscaldo Un po' Ok Ok È morto Cambiamoci anche L'arma Per carità Perché questa qui Ecco qua Ecco qui siamo Oserei dire Che siamo in Un'armeria E a quanto pare Tenersi Pronto Immolazione Non è Non è stato vano Perché appunto Qui ci sono due guardie Possono risultare Pericolose Anche perché Il punto dove L'affrontiamo Non è Così tanto ampio Quindi Grazie Grazie Tra l'altro Lì dietro c'è un checkpoint Quindi abbiamo raggiunto Un'altra Zona chiave Del porto E siamo quasi Giunti a destinazione Oddio Quasi No Però Siamo a buon punto Siamo a buon punto Allora Per di qua O finalmente All'aperto Anche se comunque Abbiamo dei Dei limiti Visibili Perché si vede Il nero L'oscuro O meglio L'oscurità Bisogna fare attenzione A una nave Che ho visto Prima appena sono uscito Ecco Appena sono uscito Da quella casa La stiamo vendo Lì Anche se a dire il vero Non è che sembri Proprio una nave È un obrobrio Qualcosa Che non si può Classificare Né in una nave Né in un sommergibile Comunque Comunque bisogna fare attenzione Perché abbiamo visto Che Lancia dei dardi E probabilmente Fanno male Quanto Quelli lanciati Dalle balestre Dei nostri nemici Dei nemici Umanoidi Ecco Quindi Lasciamola andare Finchè la barca va Lasciala andare Ecco Per di qua Bisogna fare Praticamente Sponda per sponda Per andare avanti Bisogna utilizzare Il salto In modo tale Di raggiungere L'altra parte Del canale Adesso vediamo Se riesco a Colpirlo No Fail Dai 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 Mori che Che sennò Arriva di nuovo La barca Con Orietta Berti E ci sparano Che poi tra l'altro Sparano solo a me Ovviamente E se per caso Per pura coincidenza O errore di mira Il dardo O i dardi Dovessero colpire Il nemico Non credo Li faccia Del danno Comunque Orietta Berti Ha una mira Allucinante Colpisce solo I paletti E la fune Che tiene In piedi i paletti Che li collega Non riesce A colpire a noi Allora Qui per andare avanti Bisogna chiaramente Uccidere Questo qua E poi sulla destra Qui non si vede Ma c'è una strada O meglio Una via Che ci conduce Dall'altra parte E per andare avanti Bisogna fare sempre La stessa cosa Ovvero Utilizzare il salto Per raggiungere L'altra parte Del canale E così via Sino a quando Appunto Non raggiungiamo Il checkpoint E coberti Alla carica Oh Finalmente Allora Ecco qui Per di qua Di nuovo Basta rimanere qui E vedete Che adesso Se spara Addirittura Le frecce Che sembrano Razzi Che partono Tra l'altro Dal nulla E quindi Salto Jump Sì 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 Sei bravo Sei un ottimo Spataccino Ancora Immolazione No ancora Non abbiamo La barra di energia Piena Dai Muori dai Ciao Ti ho precotto Praticamente Sei pronto A mettere In un freezer Surgelato Ed essere venduto Nei migliori Nei migliori Supermercati Di Nosgoth Tanto Meridian Probabilmente Ne è piena Quindi Oh non si riesce A colpirli Col salto Dai 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 Muoviti Sì 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 Ancora Ma non muore mai È un cheater Questo qua Ha usato i trucchi Morto Morto Sì Praticamente sì E mi tocca anche aspettare Che muoia Crudeltà al massimo Li tiro un paio di calci Va Oddio Mi manca ancora Qualche guardia Da far fuori E poi se non sbaglio C'è un salto Da fare E abbiamo raggiunto La nuova zona Sì furia Perché adesso ti devo Ti devo far fuori E ti devo anche umiliare Che poi tra l'altro Non so quante furie Ci servono Per ucciderlo Dato che furia Non si usa più Dall'epoca di Faustus Praticamente È andata fuori moda Sei morto? No Non sei morto Sei morto? Sei morto Oh Finalmente Sperando che almeno Questa volta Orietta Berti ci risparmi Vediamo Non sta arrivando Quindi Sì possiamo andare via Oh Tu muori Tu muori Invece Visto che sei femmina Te muori Un due e tre Tutti e tre ripuliti Allora qui Chiusa Possiamo andare su Sì Perché qui c'è un sordo Che non ci ha sentito No Qui non si può andare Possiamo Comunque utilizzare la reliquia Per aumentare un po' di più La nostra barra della fibra Allora Ah ecco Bisogna andare per di qua Scende la scale Un optional Qui di noi Planiamo Tanto Qui non c'è niente da fare Eccoci qua Allora Qui Vediamo Ah ecco abbiamo sbloccato Dall'altra parte La porta In sostanza Possiamo andare per di qua Ecco Come al solito Non solo ci sono delle guardie Ma c'è anche un canale Speriamo che la barchetta Di berti Non sbuchi Wow Parate Sincronizzate E si stanno anche divertendo Ecco Sì Che alla fine La testa calda Doveva esserci Bravo Grazie Se mi uccidi Ti pago anche la colazione Però non si decidono Non si decidono A attaccare In modo tale A farmi sbloccare Inolazione Per fortuna Ci sono riuscito Anche perché Ho un po' di fretta Ok Ciao Oh Adesso Cerchiamo di recuperare Un bel po' di salute Grazie a questi due Ma credo che Comunque Dovrei riuscire A riempire Tutta la barra Della salute Con il loro sangue Un bel po' di salute Un bel po' di salute Un bel po' di salute Del capitolo Se non erro Attorno a questa struttura Non ci dovrebbero essere Reliquie Quindi lasciate Lasciate stare L'esplorazione Ecco Per andare avanti Bisogna prendere Il controllo Di questo Ingegnere E far abbassare La gratta O meglio La gabbia Questo demone Praticamente Verrà Liberato E farà fuori Queste guardie Con immensa facilità Mentre invece Ammetto Caparare Per accumulare Immolazione E poterla utilizzare Fatto Bravissimo Ottimo ripulitore Là c'è Kane Che è Balla No Io ero su Gioco Mi stai trollando? Vabbè Comunque Ripuliamo La zona Da questi Cadaveri Quindi Recuperiamo appunto Il sangue Dai loro Corpi Dopodichè Dovremo Riprendere Il controllo Del civile Di quell'ingegnere Dentro la gabbia Far Riscendere La gabbia Nella quale Era rinchiuso Magicamente Quel Quel mostro Quel demone E salirci Una volta fatto ciò Praticamente La gabbia Ci porterà sopra Una nave E questa nave Noi Praticamente Prenderemo il controllo Ne prenderemo il controllo E andremo verso La città degli Hilden Si conclude qui Il capitolo del porto Un capitolo Che se non fosse Per Uma Sarebbe del tutto Inutile Detto questo Vi saluto Già da adesso Dopodichè Chiaramente Ci saranno Un paio di storielle Dalla buonanotte E ci sentiamo Nella prossima parte Che dovrebbe essere La penultima del gameplay Ma comunque Non vorrei azzardare A dirlo Comunque siamo Alla conclusione In sostanza Di questo gioco A presto Ciao ciao Alla prossima 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 Che questa macchina Che vogliono Alla prossima Alla prossima Ehm... Sì Dovevo farla Una trollata del genere Hai permesso Di tormentare Quella bestia Non mi serve Il permesso Di odiarlo Odiarlo Cugino Perché Odio L'essere Che viene Da quel posto Attendo solo Il momento Che venga Distrutto Come tutti Noi E queste creature Non le odio Adi anche loro Sì Quando saranno Tutte morte Avremo finalmente Ottenuto La nostra vendetta Sì La nostra Agognata Vendetta D'accordo Sì Sì Parlate di vendetta E di quant'altro Nel frattempo Qui È un casino nero C'è la Il pattume In terra Queste casse Totalmente inutili In mezzo alla strada Comunque Rivediamo I nostri cari amici Hilden Anch'essi Chiaramente Come i loro Parenti Dentro la macchina Hanno adottato La moda Della Gonna a viola E dei tacchi A punta Sono sempre Gli stessi Quindi tutti i colpi Sono parabili E Tra l'altro Si scavano la fossa Da soli Quando c'è Attaccano Perché Parando tutti i loro colpi Accumuliamo Molto Molto In fretta L'energia necessaria Per poter Utilizzare L'emulazione E farli fuori Chiaramente Questo è il capitolo Della città Degli Hilden E nella prossima parte Lo esploreremo Molto Molto Più A fondo E andremo Molto Più Avanti Qui Faremo Solo Le prime Azioni Quello che dobbiamo fare Semplicemente È entrare Dentro Una voragine Che incontreremo Tra non molto E poi Ci sarà Da divertirsi Ecco qua Scendiamo Per Per Questa Questa Questo crepaccio Nel frattempo Vi ho fatto vedere Qui la cascata Allora Qui Non si capisce Cosa sia Ma dovrebbe essere Fumo Vapore Recuperiamo L'arma Che è sempre meglio Averne una Con sé No 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 Cosa male Qui bisogna utilizzare L'attore cinesi Ecco qua Sì sì Corrette Corrette Uno E due Ecco Come al solito Scappa Vabbè E fa Un disastro Semplicemente Adesso Dobbiamo Risalire su Raggiungere La zona D'inizio Del capitolo E entrare In quella Stanza Che Diciamo Ci ha reso Accessibile Quel demone Perché prima La porta Era chiusa Era sigillata Quindi non potevamo Entrarci Adesso invece Che ha proprio Distrutto La porta stessa L'entrata È libera Possiamo raggiungere Quella stanza Ripuliamo Quei due Corpi Degli Eden E praticamente Dobbiamo scendere L'ascensore Dopo che se non erro Ci dovrebbe essere Il checkpoint E termineremo Lì La parte Stavolta Sul serio Però E non ci saranno Storie della buonanotte Storielle della buonanotte Inutile dire Che questi ragni Sono gli stessi nemici Incontrati Nella prigione Eterna Quindi niente di nuovo Finora Oh Possiamo andare avanti Possiamo andare avanti Perché dobbiamo Tornare indietro Anche loro Hanno inventato La porta che hanno I supermercati Ma dove va? Dai 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 Che ho fretta Altro che stare A vedere a te Che attacca Senza senso Oh Ciao Potevi rimanertene Lì dentro Perché il tuo intervento È stato totalmente Inutile 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 uno è fatto e ora anche il secondo tra l'altro non capisco dove sia andato quel demone vabbè problemi suoi allora cerchiamo in tutti gli anfratti perchè probabilmente qui c'è qualcosa vediamo ecco qui ecco appunto una reliquia dai vediamo se riesco a potenziarmi nella prossima parte la barra della fibra è a metà quindi è probabile ora qui e utilizziamo l'ascensore oh si ma da dove ne è uscito oddio ci siamo vediamo un po' ecco qua il checkpoint adesso vi saluto qui ci sentiamo nella prossima parte e ciao 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 Grazie a tutti.